Dal passato al futuro, Farindola è l'alta area vestina, idee per un rilancio e il convegno dove esperti, operatori del settore e autorità si sono riuniti con un unico comune denominatore, lo sviluppo sostenibile della zona e una maggiore sinergia tra i piccoli comuni dell'interno. Potrebbero essere ancora più conosciute e quindi più importanti per l'impatto economico sulle nostre popolazioni se ci fosse la possibilità di fare una giusta promozione aiutati in questo dalle strutture pubbliche. Io ho appena riconfermato che al nuovo assessore regionale dell'agricoltura riproporrò la creazione di questo dipartimento per la tutela della qualità alimentare che non costerà nemmeno un soldo alla regione Abruzzo ma che potrebbe essere utilissima per tutti quei produttori nella regione che vogliono continuare a fare prodotti di qualità riconosciuta e comprovata e che potrebbero avvalersi di questa identità sul mercato che potrebbe aprire le loro nuove porte, nuovi mercati, nuove situazioni economiche. Nel 91 fu fatta una legge per la tutela del nostro territorio in cui si andava a tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale dall'opera dell'uomo. Adesso nel 2019 abbiamo la necessità di tutelare l'uomo da quello che sono tutti i dissesti idrogeologici e valorizzare le eccellenze che abbiamo dal punto di vista naturalistico e enogastronomico e culturale. E quindi questo convegno nasce appunto dalla necessità di ripartire e di farlo con la stessa determinazione che fu fatta all'epoca per cercare di dare una dignità a questi cittadini e un futuro ai nostri figli.